Alan Ruby è un ragazzo completamente ossessionato dai soldi e fin dai primi anni dell'adolescenza ha sempre amato sfoggiare i suoi vestiti di marca, i suoi orologi costosi e il suo stile di vita lussuoso. Il denaro è sempre stato al primo posto per lui e pur di mantenere le sue apparenze da ricco ha preso decisioni folli e completamente assurde, tra cui derubare la sua stessa famiglia, ma non è la cosa peggiore che ha fatto. Tuttavia non è riuscito a controllare la sua fame di denaro e questo lo ha portato a compiere dei gesti estremi che vi lasceranno davvero senza parole. Amici miei buonasera sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui e il caso di oggi ragazzi vi farà davvero arrabbiare perché parleremo di un adolescente un po' particolare che non ha saputo fermare la sua ossessione malata per il denaro e per lo stile di vita da ricco. Oggi andiamo in Oklahoma, più di preciso a Duncan, una cittadina che conta circa 25.000 abitanti, quindi parliamo di un posto relativamente piccolo e non una grande metropoli. È proprio qui a Duncan che vi presento la famiglia che sarà la protagonista nel caso di oggi, la famiglia Ruby, composta da quattro membri. Il padre, John Ruby, è un editore di un settimanale locale e al momento dei fatti ha 50 anni. John viene da una famiglia abbastanza importante in quanto da tre generazioni questa famiglia possiede il Duncan Banner, un giornale locale che è poi stato venduto nel 1997. Questo ovviamente ha lasciato la famiglia una grande somma di denaro e nel 2007 John ha deciso di acquistare altri due giornali locali, il Mario Review e il Comanche County Chronicle. Essendo appunto Duncan una città abbastanza piccola, John è molto conosciuto nella comunità, conosciuto per essere un famoso editore ma anche per essere il vicepresidente della fondazione dell'Oklahoma Press Association, un'organizzazione professionale statale di editori di giornali. Oltre a ciò John svolge anche diverse attività di beneficenza e volontariato nella comunità e per questo è anche molto apprezzato dalle persone intorno a lui, che lo definiscono come un uomo sincero, amichevole e sempre pronto a dare una mano. Prima di continuare amici vi chiedo velocemente di controllare se siete iscritti perché più del 40% delle persone che guardano i miei video a quanto pare non sono iscritte quindi se vi piace passare del tempo con me mi raccomando iscrivetevi perché aiuta tantissimo il canale e comunque qualora doveste poi cambiare idea in futuro potete sempre togliere l'iscrizione per qualsiasi motivo, anche se sono sicuro che se siete qui non devo preoccuparmi di questo, giusto? Comunque tornando a noi, la famiglia è anche composta da Joy Ruby, la moglie di John, che al momento dei fatti, al momento di questo caso, ha 48 anni. Joy è stata un'insegnante fino a quando suo marito John non ha acquistato il Mario Review. Infatti da quel momento ha iniziato a scrivere anche lei per il giornale locale. Anche Joy come suo marito è impegnata attivamente nelle attività di beneficenza della comunità ed è molto rispettata e apprezzata da tutti, venendo descritta come un'amica devota e una persona in generale sensibile e sempre pronta a dare una mano, aiutare il prossimo. John e Joy poi hanno due figli, Catherine e Alan. Catherine nasce il 21 agosto del 1997 e viene descritta come una ragazza brillante e una grande sportiva. Si appassiona al pallavolo fin da piccola e gioca nella squadra della sua scuola ma eccelle anche come studentessa, infatti è una delle migliori della classe. Ancora prima di terminare il liceo aveva già pianificato quali potevano essere i college a cui iscriversi e oltre a questo Catherine è anche una gran lavoratrice e fa spesso dei lavoretti part time per iniziare a mettere da parte qualche soldo. E lo fa già da quell'età, il che le fa abbastanza onore, quindi dai 16 anni in poi. Vabbè che in America è abbastanza, diciamo, comune iniziare a lavorare a 16 anni e fare i lavoretti part time, però nell'istituzione agiata in cui era lei non è affatto comune, ve l'assicuro. E infatti parliamo dell'ultimo membro della famiglia, Alan, colui che sarà il protagonista principale del caso di oggi. Alan nasce il 13 dicembre 1995, in teoria, e dico in teoria perché in un documentario dicono sia nato l'8 maggio, mentre in altre fonti il 13 dicembre, mentre ancora nella maggior parte degli articoli online non è proprio scritto una data di nascita precisa. Però facendo il calcolo dagli articoli che sono usciti quando è venuto il caso e l'età che aveva, posso dire con quasi assoluta certezza, che si tratta del 13 dicembre. Comunque quando è venuto questo caso aveva 18 anni, quasi 19. Finiti gli studi al liceo, Alan si iscrive all'università dell'Oklahoma, dove passerà la maggior parte del suo tempo, dato che deciderà di prendere una camera in un dormitorio. La famiglia intanto continua a vivere dove aveva sempre vissuto, ovvero in un quartiere chiamato Bent Tree Street, che in pratica è il quartiere residenziale per eccellenza della città. Lì infatti vivono le persone di una classe sociale più agiata, possiamo dire. Tutti in quella piccola città conoscono la famiglia Ruby, perché come vi dicevo sono persone impegnate attivamente nella comunità e gestiscono anche i giornali locali, quindi che cosa sarebbe potuto andare storto? Come vi accennavo, oggi ci concentreremo in particolare su Alan, quindi parliamo un attimino in maniera più approfondita di lui. Alan cresce in un contesto molto agiato, come abbiamo già visto, e ha sempre avuto un ottimo rapporto con i suoi genitori. In particolare aveva un rapporto di grande fratellanza con sua sorella minore, Katrin, in quanto i due avevano solo due anni di differenza e crescendo hanno praticamente condiviso qualsiasi cosa ed esperienza. Alan è sempre stato un bambino allegro e estremamente creativo, tuttavia queste abilità hanno iniziato a scemare pian piano con l'arrivo dell'adolescenza. Alan infatti non appena entra in fase adolescenziale comincia a comportarsi come il tipico adolescente rompipalle e un po' ribelle e pian piano inizia ad allontanarsi da sua sorella, Katrin, che si rivela essere tutto l'opposto di lui. Alan infatti scopre di adorare il fatto di ostentare che la sua famiglia è benestante e non perde occasione per apparire come una persona straricca, mentre invece Katrin, d'altro canto, è una ragazza molto modesta, meno esuberante rispetto al fratello. Infatti lavorava, nonostante i soldi della famiglia. Comunque nonostante questo aspetto del suo carattere, Alan è sempre circondato da amici e in realtà è molto apprezzato dalla sua compagnia, che lo descrive come una persona sempre sorridente e molto festaiola. Poi all'età di appena 13 anni Alan viene sorpreso a rubare l'auto di sua nonna a 13 anni, ma per fortuna non riesce nemmeno a mettersi alla guida perché appunto viene scoperto subito. Per questo fatto però non verrà punito e nella sua testa da adolescente viziato si insinua l'idea di poter fare quello che vuole senza doversi assumere le conseguenze delle sue azioni e non c'è nulla di più sbagliato che si possa fare con un teenager che già si dimostra essere un ribelle per natura. Infatti quando Alan ha 15 anni riesce effettivamente a rubare l'auto sempre di sua nonna, ma viene fermato da un posto di blocco per eccesso di velocità pure. Cioè comunque quando gli agenti gli chiedono la patente Alan si difende dicendo che ha lasciato tutti i documenti a casa perché era uscito di fretta e fornisce al poliziotto dei dati fasulli. Che idiota. Il poliziotto ovviamente ci mette meno di 10 secondi a registrare la targa e cercare sul database a chi appartenesse l'auto. Ma con mio grande stupore ho visto che Alan è stato solo accusato di eccesso di velocità per questo fatto e invece non venne fatto nulla per il fatto che fosse alla guida di un'auto sprovvisto di patente e avesse ancora 15 anni quindi non poteva guidare. Vi ricordo che in America gli adolescenti possono guidare a partire dall'età di 16 anni se hanno la patente. Ma comunque Alan era troppo piccolo e non aveva nessuna licenza di guida. In più era un'auto rubata. Ecco per tutto questo non le hanno fatto niente mentre per l'eccesso di velocità la multa. Anche questa volta quindi non pagherà nessuna conseguenza e non si assumerà minimamente la responsabilità delle sue azioni. Intanto negli anni il suo carattere continua a peggiorare e la sua ossessione per i soldi diventa sempre più intensa. Tant'è che le litigate con i suoi genitori per questo motivo diventano sempre più frequenti all'ordine del giorno. Alan spende soldi continuamente e ovviamente stiamo parlando dei soldi dei suoi genitori perché il ragazzo non lavorava a differenza di sua sorella. Questo comunque fa sì che le tensioni in casa aumentino sempre di più. Quando Alan ha 17 anni e sta per terminare il liceo avviene qualcosa che richiede l'intervento della polizia a casa a Ruby. Sì perché un giorno il ragazzo aggredisce letteralmente sua madre e da tutte le fonti a cui mi sono appigliato ho letto che il motivo della lite era ovviamente scaturito dai soldi perché Alan aveva di nuovo fatto spese folli rubando le carte dei suoi genitori e Joy ne aveva abbastanza di questo comportamento del figlio. In tutta risposta Alan si era accanito su di lei e l'aveva quasi soffocata cioè le aveva messo letteralmente le mani al collo finché non era intervenuto John a staccarlo da Joy e a chiamare subito il 911. Quando gli agenti arrivano lì nella casa Joy deve dare la sua deposizione e mi sono sorpreso nello scoprire che non ha nemmeno sport o denuncia. Il fatto di non far passare mai nessuna conseguenza ad Alan penso che non facesse altro che alimentare questa sua fame di potere e di controllo su qualsiasi cosa e soprattutto sui soldi che continuava a rubare e sperperare. Penso che il motivo per cui non è stata sporta denuncia in realtà sia per il fatto che John possedeva appunto diversi giornali locali e quindi fosse anche un uomo molto conosciuto nonché rispettato. E sicuramente la notizia di avere un figlio violento che ha aggredito sua madre non avrebbe messo in buona luce l'intera famiglia quindi penso che probabilmente fosse per questo. Questo episodio però secondo me dimostra perfettamente il carattere irascibile di Alan e quanto fosse schifosamente viziato e pronto a qualsiasi cosa pur di ottenere ciò che voleva. Perfino soffocare la sua stessa madre. E più andremo avanti con la storia più il suo comportamento ragazzi vi farà incazzare non arrabbiare proprio incazzare. Ma andiamo con ordine perché mi sto già incazzando anch'io. A seguito di ciò che è successo purtroppo non sappiamo se Alan sia stato punito o se abbia comunque ricevuto una lezione dai suoi genitori e spero davvero di sì anche se in realtà vabbè già in quel momento secondo me era troppo tardi. In ogni caso a soli pochi mesi da questo fatto finalmente il ragazzo termina i suoi studi al liceo e si iscrive appunto all'Oklahoma University. E per questo motivo John e Joy decideranno di fargli un regalo per congratularsi per il suo successo negli studi e per essersi diplomato. Ora non voglio assolutamente puntare il dito contro i genitori né colpevolizzare nessuno ma penso che questo comportamento ripetuto abbia creato solo dei danni nell'atteggiamento già instabile del ragazzo. Cioè lasciare che Alan si liberasse costantemente dai guai per cose così serie lo ha portato davvero a credere di avere il diritto di fare tutto ciò che voleva con qualsiasi mezzo possibile. Infatti il regalo che i genitori decidono di fare ad Alan è un'auto e non stiamo parlando di una piccola Ford utilitaria come regalo di diploma ma di una Jeep nuova di zecca e ho visto che il suo prezzo si aggirava intorno ai 35-40 mila dollari. Io sinceramente non credo che avergli regalato una macchina di quel valore e gli abbia dato una lezione per aver cercato di strangolare la sua stessa madre ma vabbè si sa che è anche molto facile per un genitore cedere alla tentazione di viziare così i propri figli specialmente se si ha la possibilità e se si amano ma vabbè in ogni caso andiamo avanti. Il fatto di ricevere sempre più regali e di spendere sempre più soldi non ha fatto altro che alimentare questa ossessione del ragazzo. Così nel 2013 quando Alan ha ormai 18 anni fa una cosa che ritengo veramente disgustosa. In pratica Alan pensa fosse una buona idea approfittarsi di sua nonna una donna di nome Janice Ruby che da alcune fonti ho letto fosse affetta da demenza senile. In sostanza il giovane decide di rubarle dei soldi. In alcuni posti ho letto che Alan le ha semplicemente rubato la carta di credito mentre in altri posti ho letto che invece si è recato in banca per avere una carta di credito American Express nuova di zecca e l'avrebbe ottenuto ovviamente mettendo i dati delle informazioni di sua nonna. In questo modo a quanto pare la carta sarebbe stata effettivamente approvata ed emessa. Non lo so se è possibile ma al di là delle modalità con le quali ha fatto questo gesto Alan in ogni caso stava rubando i soldi a sua nonna che intanto non si accorgeva di nulla perché appunto affetta da demenza e non pensava minimamente che il nipote la stesse derubando. Come avrete ormai capito il ragazzo adora ostentare i soldi e tutti gli oggetti costosi che possiede e decide di utilizzare il denaro di sua nonna per fare un viaggio in Europa di quasi sei settimane. In particolare Alan viaggerà in giro per l'Italia quindi è stato anche qua cazzo. E poi si recherà nella sua meta preferita ovvero Parigi dove lo girà in hotel 5 stelle molto rinomati. Alan oltretutto adora sfoggiare la sua vita lussuosa anche sui social e infatti non perde tempo a pubblicare una foto davanti alla tour Eiffel ma non è tutto. Durante tutto il suo viaggio Alan continuerà a pubblicare foto sui social in cui ostenta i nuovi vestiti che si compra e in un'altra foto impostata su Instagram sfoggia il suo nuovo orologio Omega appena acquistato. Ovviamente con i soldi rubati a sua nonna e ho controllato i prezzi di questi orologi e vi basta sapere che partono da 8.400 euro. Insomma. Oltre a ciò Alan all'epoca è anche molto attivo su Twitter. Tra l'altro il suo profilo è ancora attivo. Sono andato a curiosare un po' per vedere quello che scriveva e ovviamente anche qui Alan non si smentisce. Ogni suo tweet è un continuo parlare di soldi, di viaggi, degli oggetti costosi, vestiti costosi, tutto così. Comunque ovviamente non passa molto tempo prima che i genitori di Alan si accorgano di tutte queste transazioni strane che stavano avvenendo sulla carta di Janice e così John decide di chiamarlo per chiedere spiegazioni e quando viene a galla tutto, perché viene a galla tutto, il padre si infuria. Questa volta infatti avendo ovviamente oltrepassato il limite più e più volte John non pensa di farla passare liscia ad Alan e infatti al suo ritorno dall'Europa verrà denunciato alla polizia per furto di carte di credito. E qui ho detto finalmente cavolo perché fino a quel momento sto ragazzo l'aveva sempre fatta franca in ogni momento e ogni volta riusciva sempre a cavarsela senza conseguenze. Quando è tornato negli Stati Uniti però John Ruby ha chiamato la polizia per suo figlio. Le autorità riferiscono che i genitori hanno trovato diversi addebiti sulla carta provenienti dall'Europa durante il periodo in cui appunto Alan aveva fatto un viaggio a Parigi e in Italia. All'inizio il ragazzo ovviamente ha negato tutto come se fosse possibile negare l'evidenza ma va bene e solo in seguito si è dichiarato colpevole di furto di carte di credito e di aver speso oltre 5.000 dollari in spese folli mentre era in Europa. Anche se 5.000 dollari mi sembrano anche un po' pochi contando il fatto che il ragazzo è stato via per settimane e contando anche l'orologio. Non so magari l'orologio in realtà ce l'aveva già non è chiaro oppure magari l'ha comprato usato non lo so. Comunque per via dei suoi crimini Alan verrà condannato nel gennaio del 2014 e verrà inserito in un programma speciale che non credo che qui esista e letteralmente infatti si traduce come condanna ritardata da quello che ho capito. Insomma come parte della sua punizione la corte gli ha ordinato di pagare un risarcimento, sottoporsi a una valutazione sull'abuso di sostanze, frequentare una consulenza su droga e alcol e completare un programma di correzione del comportamento cognitivo. Non ho capito bene il motivo per cui lui dovesse frequentare queste consulenze su droga e alcol perché in realtà da nessuna parte ho letto che avesse problemi con queste sostanze. Non lo so magari l'hanno inserito nel programma semplicemente perché lui aveva una dipendenza comunque dai soldi in generale. Comunque si diceva beh deve seguire anche questo programma ok. E dopo tutto questo casino John e Joy decidono di tagliargli definitivamente i fondi e questo ovviamente fa infuriare Alan. Ma il ragazzo da tutto questo non ha imparato assolutamente nulla e infatti le sue spese folli non si sarebbero mai fermate. Nell'estate di quell'anno quindi del 2014 Alan non potendo più attingere i fondi dei suoi genitori decide di andare a far visita a sua nonna Janice sempre più spesso e se ve lo stai stai chiedendo no non lo stavo facendo perché era un nipote amorevole e voleva passare il più tempo possibile con lei ma semplicemente per rubarle altri soldi. Alan continuerà a recarsi a casa di sua nonna e continuerà a rubarle degli assegni che ovviamente la nonna lasciava in giro per casa perché comunque nonostante tutto si fidava di suo nipote. Dall'inizio di giugno quindi fino alla metà di luglio più o meno Alan spenderà la bellezza di 17 mila dollari praticamente prosciugando il conto di sua nonna ed è a quel punto che la banca si preoccupa che potesse essere avvenuto magari di nuovo un furto e decide di contattare la donna per informarla di tutte queste transazioni folli avvenute durante l'estate che poi durante l'estate in un mese e mezzo 17 mila dollari. La banca decide anche di controllare i sistemi di videosorveglianza che ovviamente riprendono Alan mentre incassa tutti quegli assegni. Da qui però purtroppo non si dice più nulla di questo fatto quindi di nuovo non so se Alan sia stato effettivamente accusato di frode o se i suoi genitori lo abbiano punito so solo che nell'agosto di quell'anno su suo twitter ha pubblicato una sua foto in cui è al casino e tiene in mano un biglietto tipo una sorta di voucher in cui insomma in questo post ha scritto I was the big winner ovvero sono stato il fortunato vincitore o qualcosa del genere insomma e zoomando sulla foto mi fa straridere scusate zoomando sulla foto si può vedere che quel biglietto valeva 41 dollari e quando l'ho visto sono scoppiato a ridere perché sto ragazzo ha letteralmente appena prosciugato i fondi della sua povera nonna spendendo migliaia e migliaia di euro per poi pubblicare una foto con un buono da 40 dollari questo ragazzo non sta bene ormai l'abbiamo capito vabbè l'estate comunque finisce e così finalmente alan inizia l'università e decide di iscriversi alla facoltà di scienze politiche i genitori saranno stati felicissimi di non avere più il ragazzo in mezzo alle scatole immagino ma ciò che farà alan da questo momento in poi supera davvero qualsiasi limite di follia e immaginazione che potreste avere in pratica non potendo più attingere nei fondi dei suoi genitori né rubare il denaro di sua nonna decide di chiedere del denaro ad uno strozzino per continuare a fare le sue spese folli e continuare a ostentare il suo stile di vita da ricco comunque ovviamente finisce per avere un debito con lo strozzino di più di 3000 dollari e questo ovviamente inizia a farlo preoccupare perché non sapeva come risarcire il debito da una fonte ho letto che gli è anche arrivata un migliato di minaccia direttamente al suo dormitorio mamma mia sto ragazzo mi fa troppo arrabbiare perché letteralmente considera qualsiasi persona come la sua banca personale e pensa anche di non dover assumersi nessuna conseguenza ovviamente alan però dopo questa minaccia comincia seriamente a preoccuparsi e capisce di dover trovare un modo per sistemare tutta questa faccenda e in fretta e purtroppo quello che gli viene in mente non è trovarsi un lavoro mettere da parte i soldi più velocemente possibile e restituirli a questo strozzino no quello che gli passa per la testa porterà un epilogo terribile alan infatti pensa che l'unico modo per ottenere un sacco di soldi in fretta sia intascarsi il denaro dell'assicurazione sulla vita di suo padre sì perché pochi anni prima suo padre john aveva stipulato due polizze assicurative sulla vita ed era stato creato anche un fondo per alan a cui però non avrebbe potuto attingere fino all'età di 21 anni ma il ragazzo ovviamente non poteva aspettare ancora due anni per ripagare il debito quasi tre anni e i suoi genitori godevano entrambi di ottima salute quindi anche in questo caso non avrebbe potuto intascarsi i soldi dell'assicurazione quindi sì penso che abbiate capito quello che gli è venuto in mente di fare l'undici ottobre del 2014 alan decide di prendere la macchina lasciare il dormitorio e recarsi ad hankan sul posto di lavoro di suo padre il padre si recava sempre a lavoro con il suo furgone e infatti alan vede il furgone fuori parcheggiato e sa benissimo che cosa avrebbe trovato al suo interno dentro al veicolo infatti si trovava una pistola 9 mm l'arma del padre alan quindi decide di rubarla e di tornare al suo dormitorio per aspettare qualche ora poi torna a duncan e arriva a bent tree street il quartiere in cui viveva ancora la sua famiglia decide di parcheggiare la macchina in fondo alla via per non farsi vedere aspettando il ritorno dei genitori a casa e non appena vede sua madre joy fare rientro in casa alan esce dalla macchina e si avvicina alla casa appunto passando dal cortile sul retro per non essere visto poi entra nell'abitazione e cammina fino al soggiorno dove sua mamma intanto si era appena seduta sul divano non appena la donna vede alan fa un'espressione sorpresa perché appunto pensava che si trovasse al college alan però non le dà nemmeno il tempo di realizzare nulla che le spara in testa la donna cade a terra e alan le spara per una seconda volta per assicurarsi che morisse intanto katrin la sorella minore si trovava fuori dall'abitazione intenta lavare la macchina ma appena sentito quei forti rumori provenire da dentro casa si è precipitata ovviamente al suo interno una volta arrivata anche lei in soggiorno alan spara subito in testa anche a lei e il corpo di katrin si accascia accanto a quello senza vita di joy in tutto ciò john non era ancora tornato da lavoro e quindi alan decide di aspettarlo lì insieme ai cadaveri di sua madre e di sua sorella dopo poco più di un'ora john fa ritorno a casa ignaro di quello che lo avrebbe aspettato e non appena l'uomo entra alan si accanisce su di lui e gli spara senza esitare un secondo lo guarda cadere a terra urlando dal dolore e poi gli spara una seconda volta in testa a quel punto alan si ritrova in casa con tutti i membri della sua famiglia morti per mano sua una cosa che mi siano chiesto è va bene che in america le armi sono legali e magari per loro sentire degli spali e come per noi sentire dei petardi ma cavolo siamo in uno dei quartieri residenziali più sicuri della città ed era pieno giorno come cavolo è possibile che nessun vicino abbia sentito gli spari questo sinceramente io non me lo spiego a seguito dell'uccisione comunque alan decide di inscenare una rapina finita male recupera la pistola utilizzata per il crimine in modo da non far trovare l'arma del delitto e poi stacca anche tutte le videocamere di sorveglianza installate in casa decide poi di rubare qualcosina qualche oggetto di valore per far reggere meglio la versione della rapina alan dopo aver commesso gli omicidi torna all'università nel suo dormitorio doveva lasciato tra l'altro il suo telefono per destare ancora meno sospetti e per far sì che comunque la sua posizione non venisse tracciata e appunto gli investigatori non vedessero i suoi movimenti dall'università ad hunkan non appena prende in mano il telefono decide di scattare una foto dalla sua università e postarla sui social così da creargli una sorta di alibi e poi la sera va a vedere la partita di football nella sua scuola insieme ai suoi amici come se non avesse appena sterminato la sua intera famiglia il 12 ottobre quindi il giorno seguente pubblica il suo ultimo tweet in cui scrive college wouldn't be half as great without these two pitches letteralmente il college non sarebbe così bello senza queste due pesche non lo so penso si riferisse alle sue coinquiline o coinquilini visti anche gli hashtag non lo so forse c'era una foto allegata ma non c'è più uno si può più vedere quindi non lo so proprio non sono riuscito a capire che cosa volessi dire ad ogni modo lunedì 14 ottobre la polizia di duncan riceve una chiamata al 911 da una donna in preda allo shock più totale la signora in stato di forte agitazione dice di aver appena trovato tre persone morte all'interno di una casa quella donna non è altro che la governante della famiglia ruby che quella mattina si era recata in quella casa come faceva molto spesso da ormai quasi 20 anni quello che aveva trovato superava ogni tipo di immaginazione la donna trova i corpi senza vita e ricoperte di sangue di john joy e katrin sul pavimento erano passati ormai quasi quattro giorni da quando alan aveva commesso il delitto e i corpi erano rimasti lì per tutto il tempo la polizia arriva sulla scena pochissimo tempo dopo la chiamata della governante l'ispettore di turno dopo aver analizzato la situazione decide di contattare subito alan per informarlo su quanto accaduto e come c'era da aspettarsi da una persona così ignobile come lui il ragazzo oddio si mette a piangere disperato al telefono ma proprio disperatissimo ma l'ispettore subito ha qualche dubbio veramente fin da subito riguardo alla sua versione soprattutto per via della sua sceneggiata di pianto che l'ispettore riteneva finta alan ovviamente viene convocato alle centrali di polizia così gli agenti vedono che il ragazzo era già stato segnalato per i furti alle carte di credito e che era in libertà vigilata addirittura quando l'ispettore che si sarebbe occupato del caso un uomo di nome john byers lo informa delle dinamiche dell'omicidio e gli spiega come sarebbero procedute le indagini nota subito che alan si comporta in un modo un po strano perché invece che essere sinceramente addolorato per la perdita di tutta la sua famiglia sembra più che altro angosciato o preoccupato da qualcosa chissà da cosa gli agenti comunque alla fine finiscono per interrogarlo chiedendogli come avesse trascorso il weekend e ovviamente alan dice gli investigatori che era rimasto lì al dormitorio per ovviamente tutto il tempo che era andato anche alla partita di football eccetera eccetera insomma tutti gli alibi che si era costruito oltretutto se vi ricordate alan aveva lasciato apposta il suo telefono al college così da non destare nessun sospetto sulla sua posizione i poliziotti comunque iniziano ad avere sempre più dubbi su di lui sia perché nella sua deposizione sembra davvero che stia fingendo di essere dispiaciuto ma anche per le denunce a suo carico fatte dalla sua stessa famiglia per frode furto di carta di credito e così via cioè non era una situazione proprio normale gli agenti decidono quindi di trattenerlo per la notte e intanto fanno una cosa che alan non si aspettava per niente ovvero controllare i suoi ultimi pedaggi e così scoprono che l'undici ottobre aveva guidato fino a duncan prendendo l'autostrada dal college fino a casa sua e non una sola volta ma ben due cioè io davvero non ho parole la genialità di questo ragazzo cioè tra l'altro si era anche impegnato a lasciare il cellulare al dormitorio a inscenare una finta rapina eppure a costruirsi un alibi se così possiamo definirlo però ovviamente non le ha pensate tutte vabbè io non ho parole cioè mi fa proprio incazzare questo ragazzo ok perché poi così senza nessun sentimento ha ucciso la sua intera famiglia ci riflettiamo dopo ok continuiamo con la storia non passa molto tempo prima che alan confessi tutto ciò che aveva fatto alla sua famiglia su youtube trovate tra l'altro molto facilmente uno spezzone del suo interrogatorio nel quale possiamo notare che la gente di turno praticamente lo spinge al limite fino a quando alan finalmente non ammette di averlo fatto durante la confessione i detective notano che il ragazzo è totalmente privo di emozioni e non fa trasparire nessun segno di rimorso per l'atrocità che aveva commesso alan verrà quindi accusato di omicidio di primo grado e di aver inscenato una finta rapina per depistare le indagini ho guardato sul web e ho visto che l'omicidio di primo grado nello stato dell'oklahoma può essere punito sia con la prigionavita sia con la pena di morte dato che ancora in vigore lì ed è a quel punto che alan quando capisce quale sarà il suo destino inizia a provare qualche tipo di rimorso ovviamente non lo fa perché è davvero pentito di ciò che ha fatto ma perché è consapevole che la sua piccola vita perfetta ormai era rovinata per sempre questa volta avrebbe pagato per le sue azioni il procuratore distrettuale che seguirà questo caso affermerà in una conferenza che alan era un narcisista totale e farà di tutto quest'uomo per metterlo in cattiva luce non mettendo nessun particolare sulle azioni che aveva compiuto in passato tra cui rubare migliaia e migliaia di dollari a sua nonna affetta da demenza e aggredire la sua stessa madre quasi soffocandola a seguita di una lite per soldi durante il processo l'accusa farà tantissimo leva su questi aspetti per mettere in cattiva luce alan e per dimostrare che per tutto il tempo ha sempre avuto intenzione di derubare la sua stessa famiglia e che alla fine ha deciso di uccidere i suoi genitori solo per intascarsi l'assicurazione sulla vita e anche di aver ucciso sua sorella per ottenere tutta l'eredità e tutto per un debito di appena 3 mila dollari questo è il valore che alan ha dato alla vita dei suoi familiari che l'avevano amato e viziato fino a quel momento il valore però che aveva la loro morte era molto più alto di 3 mila dollari per lui capite era letteralmente ossessionato dai soldi un'ossessione malata a processo comunque inizialmente alan si dichiara addirittura non colpevole ma questa versione ovviamente non dura a lungo e alla fine si dichiara colpevole di ben 3 capi d'accusa avrebbe sicuramente ottenuto la pena di morte se non fosse stato per i suoi restanti membri della famiglia molti di loro infatti stavano invecchiando e nei casi di pena di morte possono volerci decenni prima che la sentenza venga eseguita i suoi parenti quindi hanno affermato che volevano che tutto questo finisse subito e i pubblici ministeri hanno consentito a questa loro scelta la zia di alan in una dichiarazione dirà poi che sua nipote è l'incarnazione del male e che la sua unica volontà è che non faccia più del male a nessuno aggiungendo che non vuole mai più incrociare il suo sguardo alan in aula affermerà che se necessario accoglierà al 100 per cento la pena di morte per ciò che ha fatto e questa sua dichiarazione mi ha lasciato un po perplesso all'inizio perché ho pensato che fosse piuttosto strana però poi ci ho pensato bene mi son detto che sicuramente avrebbe preferito porre fine alla sua vita piuttosto che passare l'intera esistenza dietro le sbarre senza poter più sfoggiare i suoi vestiti costosi perché l'unico outfit che avrebbe messo per la sua intera vita sarebbe stata la tunica arancione da prigioniero comunque in tutte le sue successivi dichiarazioni alan non dirà mai esplicitamente di essere dispiaciuto per quello che ha fatto anzi proverà sempre a difendersi dicendo che quel giorno non si sentiva in sé e che se potesse tornare indietro lo farebbe per cambiare le cose e via dicendo ma non ha mai realmente provato rimorso per aver massacrato la sua stessa famiglia questo dimostra che fino alla fine non si smentisce cioè il pubblico ministero in realtà appoggerà la condanna alla pena di morte fino alla fine ma affermerà poi di rispettare le volontà della sua famiglia di non voler sostenere tutto quel processo lì e alla fine alan verrà condannato a ben tre ergastoli consecutivi senza possibilità di chiedere la libertà condizionale alan ha dichiarato che non farà appello e non contatterà mai più i suoi familiari per nessun motivo e direi che questo è il minimo alan attualmente sta scontando la sua pena nel dipartimento penitenziario dell'oklahoma dove rimarrà fino alla fine dei suoi giorni e questo era tutto ciò che siamo riusciti a recuperare sullo strano caso di alan come al solito vi chiedo di dirmi cosa pensate di questa vicenda e se credete che il ragazzo avrebbe dovuto essere punito di più durante l'adolescenza per tutti i suoi comportamenti oddio strani ribelli malati cioè pensate che sarebbe servito qualcosa oppure ormai era già troppo tardi sicuramente il fatto che fosse ossessionato in maniera così negativa dai soldi era chiaro come il sole quindi intanto si sarebbe potuti intervenire su quello non lo so sento che una volta diventato adolescente per lui era già troppo tardi era già troppo infognato in questa malattia per i soldi ecco ovviamente fatemi sapere tutto quello che pensate anche voi se in qualche modo vi è piaciuto passare del tempo qui con me vi invito a mettere un mi piace a questo video oppure un non mi piace se non vi è piaciuto che vedevo di e intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che non ho la minima idea di che cosa parleremo nei prossimi video perché al momento della registrazione ancora non mi sono organizzato ok cioè ve lo già anticipati tutti quelli che mi ero organizzato ve lo già anticipati tutti negli scorsi video scusate ma ogni tanto capita anche ai migliori vabbè comunque iscrivetevi perché sicuramente troverò tantissime altre storie terribili come questa su questo non c'è dubbio anche grazie a voi che ogni giorno mi consigliate dei casi veramente assurdi quindi comunque grazie ma adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricorda che youtube non si sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo ti ricordo infine di seguirmi anche su instagram se vuoi farti i cassi miei e niente vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao ciao